Seduti attorno ad un tavolo si ragiona meglio, anche di politiche agricole. E così è nato in provincia quello dell'agricoltura. Un tavolo virtuale, certo, ma che parla di temi molto concreti per un settore chiave per l'economia della montagna, riunendo tutte le associazioni di categoria del mondo agricolo. La prima riunione istitutiva si è tenuta a Palazzo Piloni nei giorni scorsi, coordinata dalla vicepresidente della provincia Silvia Calligaro, delegata in materia di agricoltura, e dal senatore Luca De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura e Senato. Erano presenti, infatti, Chiara Bortolas di Cordiretti, Rio Levis di Cia Belluno e Diego Donazzolo di Confagricoltura. Si è deciso di istituire un tavolo agricoltura proprio per cercare di fare sintesi e di riuscire a dare le risposte che il mondo agricolo chiede, in modo tale che ci sia un canale diretto tra chi effettivamente lavora la terra e le istituzioni. La riunione è servita anche per un aggiornamento sui prossimi provvedimenti normativi del settore, illustrati dal senatore De Carlo, e ha fatto il punto su alcuni provvedimenti passati messi in campo dalla provincia, come il bando latterie e il sostegno al settore lattiero-casiario, e sulle recenti novità sul controllo primaverile del cervo. Il tavolo agricoltura è sicuramente uno strumento importante di confronto e di sviluppo di idee, è il commento di Chiara Bortolas di Cordiretti Belluno. «È necessario costruire in provincia un piano strategico per il settore agricolo», aggiunge Diego Donazzolo di Confagricoltura, anche in ottica anti-spopolamento e anti-abbandono della montagna. La Cia sottolinea invece le primissime richieste del mondo agricolo. Serve una deroga all'obbligo di rotazione delle culture, perché le condizioni della montagna sono diverse da quelle della pianura, le parole del presidente Rio Levis, e poi bisogna chiedere una regolarizzazione sull'utilizzo da parte delle imprese agricole dei terreni demaniali incolti.